buonasera a tutti benvenuti a questa nuova puntata sul canale stem per una nuova rubrica semi conduttori dal mondo nel mondo insieme a giulio peloso questa rubrica parliamo di un argomento decisamente importante decisamente interessante come sappiamo anche posto attuale che è tutto il mondo dei semi conduttori benvenuto giulio e grazie di essere con noi ciao paolo grazie a te per avermi ospitato e sì io parlo di semi conduttori stasera mi sono preparato qualche appunto cercherò di raccontarvi insomma un po questo mondo come vengono fatti chi le aziende le nazioni che contano un po di più delle altre e tutti gli equilibri che possono esserci cercherò di raccontarvelo un po e ok perché cominciamo a raccontare perché è importante parlare di semi conduttori io quando ero giovane mi ricordo ricordavo i secondi conduttori si facevano le cose giusto un po le resistenze un po i dio di queste cose un po primitive sono chiaramente un boomer che è arrivato beh ma ho cucito anch'io così ho qualche anno in meno ho cominciato così è ancora secondo me è ancora bene che si cominci così si parta dalla perché è importante per diversi diversi motivi il primo che mi viene da dire è che un sacco di aziende che noi conosciamo benissimo si basano su un mondo che è fatto di semi conduttori pensiamo apple facebook google tutte le più grosse aziende tech si basano in un modo o nell'altro su una base che è di semi conduttori sono computer sono server sono cellulari sono smartphone sono tablet e quindi è inevitabile che questo mondo diciamo non venga in contatto con noi attraverso queste grossissime aziende sarà il petrolio del futuro e l'espansione del mercato è cosa che succede di anno in anno come come pochi altri settori devo dire lo vediamo lo vediamo ogni giorno insomma l'importanza e l'importanza si vede anche in questi equilibri internazionali si sente sempre più spesso parlare di di russia di cina di taiwan e che chi riesce a produrre chi è diciamo un soggetto chiave per la produzione chi non riesce a produrse né in casa e pian piano insomma vi racconterò anche questo nel corso della live e bene allora io direi che possiamo cominciare a raccontare un po un pochettino più in dettaglio cosa sono questi oggetti cosa sono queste cose di cui stiamo parlando che poi sono appunto la base di ricicli processori di tutto quello che ci diventa sì allora io ho anche qualche foto e condivido ecco qui bene la prima foto che vi mostro è una foto che molti di voi avranno già visto è appunto steve jobs con valvaffer di silicio che ovviamente alla base dei suoi prodotti e da questo buffer lo vedete sono suddiviso sembra suddiviso in tanti piccoli quadratini ognuno di questi poi sarà un integrato specifico probabilmente un processore nel suo caso e questo come vedremo poi è un lingotto di silicio su cui vengono fatte lavorazioni e nascono gli integrati che poi vengono impacchettati messi dentro i nostri dispositivi elettronici poi qualche altra foto che vi mostro questo è un grafico che fa vedere una l'aumento in questo caso quasi il settore duplica di di mercato secondo una una ricerca di mckinsey nel 2030 rispetto al 2021 passerà da 590 miliardi a 1.065 miliardi quindi come vi dicevo una crescita che è notevole e poi andando avanti ecco qualcosa di se torni un attimo indietro se torni un attimo indietro alla slide è interessante i settori per esempio c'è uno che è interessantissimo è per esempio quello dell'automotive electronics cioè è un set una cosa che sembra apparentemente molto lontana dal un discorso di chip perché appunto l'idea di base della macchina è un oggetto grosso pesante fatto di pezzi di pezzi di ferro no ma comunque diciamo oggetti consistenti in realtà da questo grafico vediamo che è uno dei mercati più importanti per quello che riguarda il mondo dei chip e il mondo dei semiconduttori che di per sé già un esempio che fa capire quanto questo tipo di mercato sia rilevante poi per ovviamente quello del computing è un mercato noto è un mercato è appunto un mercato naturale però già vedere il mercato automotive come uno dei grossi mercati di riferimento fa capire quanto pervasivi sono queste quanto pervasivi e quanto rilevanti sono questo tipo di tempo scusami vai avanti sì in realtà hai anticipato un punto e l'hai beccato benissimo addirittura questo mercato dell'automotive triplica mentre il resto insomma il mercato in generale raddoppia un po meno che fa un po meno che raddoppiare questo mercato triplica è un mercato che per noi europei è importante siamo insomma siamo forti l'industria automotive e col passaggio c'è sempre stata diciamo una parte di elettronica automotive crescente adesso sta subendo un boom a causa del insomma del passaggio sia l'elettrico ma anche a causa di l'aumento di tutte queste strumentazioni di guida anche strumenti di guida autonoma e tutto quello che potete pensare nelle auto di nuova generazione che sono si basano su un sacco di componenti elettrici elettronici e quindi questo spiega benissimo perché questo questa fetta è importante e questa fetta sta crescendo così tanto e qui comunque si vedono tutte le altre tutti gli altri settori appunto principali computing data storage wireless communication le insomma settore radio automotive l'industria elettronix la consumer e la wired communication la comunicazione a che si chiama il cavo andando avanti volevo farvi vedere una cosa che potrebbe sembrare banale a chi si occupa di semiconduttori sembra ovviamente banale chi magari è nuovo di questo di questo mondo potrebbe non sapere quando noi parliamo di semiconduttori parliamo di questi dispositivi neri questi dispositivi neri infatti sono difficili da fare nel senso che serve tutta una rete industriale dietro che mi permetta di costruirlo mentre diciamo la parte sotto verde è facilissima da fare si può anche fare diciamo in in casa con certo magari non si fanno queste piste così belle ma in linea di principio è una fa è una parte è una è una resina mi pare e posta costa pochi veramente pochi euro se non centesimi e si può fare in casa quindi quando noi parliamo di semiconduttori parliamo di questi componenti neri che all'interno avranno una sezione di silicio ecco e a proposito di questo volevo farvi vedere che ci sono semiconduttori di varia dimensione questo estratto da un video di final technologies che un'azienda europea tedesca che si occupa della produzione di semiconduttori sono di varia scala ce ne sono dai più piccoli ai medi agli enormi tutti questi hanno una parte più o meno grande di silicio è ovvio che case del genere serviranno a dissipare potenza perché certe applicazioni del dei semiconduttori sono applicazioni di potenza normalmente quello che viene più più facile pensare anche più comune in realtà più comune è l'elettronica quella per il calcolo quella insomma che serve nei computer per essere più veloci per fare più calcoli per ottenere più applicazioni però un'elettronica che magari rappresenta un po meno vendite però è comunque importante e di un'importanza crescente è l'elettronica di potenza importanza crescente perché appunto questa ci serve per convertire potenze elettriche che possono essere di rete o batterie nelle macchine che saranno sicuramente importanti e importanti sbagliaranno un ruolo determinante nei prossimi anni per raggiungere efficienze grosse e permettere insomma di combattere su tutti i fronti il riscaldamento globale se posso dire se posso fare una breve aggiunta sulla una cosa che dicevi tu sul fatto che mentre allora diciamo le board quelle appunto come dicevi giustamente te si fanno sono abbastanza facili da fare veramente è la classica cosa da hobbista con il saldatore con un po di acido si fanno le piste e si arriva in fondo io non l'ho fatto ma mi hanno spiegato che farlo è decisamente facile per quello che riguarda i cip io ti racconto un piccolo episodio io mi occupo di software in un libro in cui spiegavano gli ingegneri parlavano di progetti software facciamo l'esempio di questo software che dovevamo progettare per calcolare i prestiti per le fabbriche di silicio e i prestiti sono erano talmente grandi che nessuna banca poteva prenderli perché parla dell'ordine dei billion of dollars che nessuna banca poteva prenderlo singola poteva prendere poteva da fare il prestito da sola per una di queste factories perché il rischio era se succede qualcosa è quella è la società va zampe per aria il rischio è talmente grande che la banca anche una banca globale rischia di farsi male quindi lì mentre appunto diciamo ed è una cosa molto buffa se ci pensi pensare di avere nello stesso pezzo una cosa che si fa veramente con l'artigiano come con l'obbista no insomma veramente il come diciamo noi il cantinaro e di fianco il pezzo che per farlo non ci basta la la global bank per fare il non ci basta la global bank dice no io il prestito da solo non lo faccio lo voglio fare insieme agli altri perché ci vuole la fattoria di silicio gigante e quella costa alcuni miliardi di dollari per poterlo fare ok sì sì è anche assolutamente incredibile come magari quel componente lì si può prendere per 50 centesimi perché magari non costa niente però farlo ci vuole fare un'infrastruttura che è enorme che diciamo tanti stati non potrebbero neanche permettersi penso che pochi altri settori abbiano delle delle situazioni simili ecco ecco cominciamo a capire perché è così complicato fare questi questi semi connessioni questi quelli che abbiamo visto che di fatto poi sono fondamentalmente processo non sono processori sono chip più correttamente credo che sì sì processori sono una sottocategoria di chip ecco allora vi parlo dei famigerati nanometri adesso cosa sono i nanometri perché se ne parla tanto dunque quando si parla di semiconduttori chip microprocessori per il calcolo e soprattutto si sente parlare quando si parla di videogame sono importanti i nanometri i nanometri indicano quando si dice 14 nanometri 22 nanometri 5 nanometri questo indica più o meno la grandezza minima con cui posso fare il transistor transistor che è diciamo la il lego di semiconduttori la il pezzettino con cui poi si costruiscono tutte le architetture ecco più questo è piccolo più riesco a farne stare nel silicio nella stessa area di silicio e meno consuma quindi ho tutto l'interesse a mettere un transistor il più piccolo possibile quindi più bassi sono i nanometri meglio è su quindi prego scusa giusto per chiarezza nanometro indica un miliardesimo di metro se non vado errato giusto micro è un milione un numero 10 alla meno 9 quindi un miliardesimo pensare sì 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 e l'ordine di grandezza se parliamo un nanometro è un miliardesimo di metro fondamentalmente giusto esatto e se non sbaglio il raggio atomico dovrebbe essere dieci volte più piccolo di un nanometro quindi per dare un'idea delle grandezze infatti si si comincia a parlare di quando si arriverà alla famigerata armstone era che è l'era in cui i transistor saranno in qualche modo comparabili anche se ovviamente non possono assolutamente superare la la grandezza dell'atomo e ne sentiremo parlare e bene per quanto riguarda quindi i nanometri questi sono importanti perché misurano in qualche modo il progresso tecnologico della della fabbrica che li produce della tecnologia che li adotta e voi avete forse sentito parlare della legge di mur la legge di mur cosa dice dice che al ogni 18 mesi le prestazioni dei dispositivi elettronici raddoppiano questo vuol dire circa che ogni 18 mesi c'è un salto tecnologico in termini di nanometri adesso volevo farvi vedere appunto vediamo se riesco a presentarvi eccolo qui avevo fatto questa è una una tabella che è molto semplice però è anche molto significativa perché in ogni per ogni per ognuno di questi anni mostra la tecnologia dal 1971 in cui si partiva a 10 micrometri un micrometro sono mille nanometri si è andati a scalare sempre sempre in maniera costante fino ad arrivare ad oggi e questa tabella è importante perché ci fa capire data per esempio uno stato o una fab che si può permettere una tecnologia riusciamo a capire quanti anni di progresso tecnologico è indietro per esempio spoiler la russia riesce a delle fab che sono a 90 nanometri 130 nanometri e mi pare che riescano in qualche caso ma non è ancora pronto per essere prodotto in linea 65 nanometri quindi si capisce che loro hanno un gap che è di 15 20 anni quindi data questa tabella riusciamo a avere un'idea di che gap tecnologico in livelli di anni abbiamo rispetto a competitor ecco questo per dirvi quanto importante è il fatto di scendere con i nanometri bene bene adesso penso che la passo successivo è sia ok va bene e come li facciamo a fare questi oggetti veramente in cui letteralmente in un millimetro ce ne infiliamo un milione perché questo è l'ordine di grandezza come accidenti si fa fare questo progetto ora ce lo devi raccontare allora adesso vi racconterò un po tutti gli step produttivi del della produzione di questi semiconduttori e è un processo affascinante nasce da un luogo improbabile perché nasce dal deserto infatti dal deserto si raccolgono camion di sabbia sabbia che viene presa viene messa in dei forni ne viene ricavato l'elemento di cui è più ricca che il silicio tramite questo processo processo cioclaschi che punta a data la sabbia ricavare del silicio purissimo vengono fatti dei degli enormi lingotti 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 di silicio che adesso vi mostro e da questi lingotti poi vengono tagliati dei dei buffer che abbiamo già visto vi ho fatto vedere nel nella prima foto quella con steve jobs che aveva in mano un buffer di silicio ecco qui mi fa vedere due immagini tutta la catena che adesso andremo a esplorare man mano della produzione e il primissimo risultato della della lavorazione questi qui sono i lingotti di silicio purissimo e di varie grandezze i più grandi attualmente sono 300 mm di diametro per darvi un paragone ed è questo il silicio purissimo e normalmente il più grande produttore di silicio purissimo è il giappone per farvi diciamo questa è un'informazione che ho fatto fatica a trovare e per darvi un'idea insomma di i costi di cosa stiamo parlando un buffer diciamo di io lo chiamo silicio crudo nel senso questo silicio che è solo non è assolutamente stato lavorato costa 3 400 dollari invece un buffer da 7 mm lavorato costa sui 10 mila dollari quindi lo stesso prima lavorazione questi 3 400 dollari poi 10 mila la fase successiva poi come abbiamo visto è in qualche modo successiva perché in realtà è parallela è il fatto di avere il progetto il progetto pronto qui quello che chiamiamo in gergo design che non è diciamo una cosa che ha molto a che fare con l'estetica come a volte si potrebbe immaginare ma più a che fare con la matematica la progettazione e qui in questa fase si cosa si fa si usano dei simulatori ormai quasi tutto simulatori per decidere diciamo la disposizione dei transistor l'architettura le grandezze in gioco e si invia poi questo progetto che è un progetto un file un file che potrebbe essere quasi di disegno meccanico perché poi il file finale è quello che mi definisce come come sarà lavorato il silicio quindi dall'incontro del del diciamo del silicio crudo e dal file di design che abili progettisti hanno fatto abili ingegneri questo viene inviato a ciò che noi chiamiamo front end cos'è front end qua bisogna fare disclaimer allora nei semiconduttori c'è front end e back end anche nel mondo del software e anche nel mondo del software però mi sa c'è anche nel mondo del software però è molto diverso anzi secondo me conoscere per per chi non lo sa dillo tu paolo che probabilmente allora tipicamente tipicamente il front end è l'interfaccia utente la quella che si presenta all'utente che la parte che la parte carina con le iconcine il mouse i colori le cose le cose carucce la parte di back end è quella dove si fanno i conti e si fanno i conti no dove ci sono i server che macinano i dati che memorizzano che fanno le operazioni vere fondamentalmente per fare l'esempio stupio il front end della vostra applicazione di home banking potete avere un front end che la vostra interfaccia grafica il back end il vostro server della banca dove stanno gestiti i conti del vostro conto corretto questo molto fa raccontato molto con l'accetto e molto alla grossola esatto ecco e prende tutta la roba che ha detto paolo e buttatela nei semiconduttori perché non c'entra niente ogni volta che ho cercato diciamo incastrare a trovare analogie sono sempre uscito insomma senza niente in tasca il front end è la parte che viene prima diciamo l'unica cosa sensata che posso dire su front end back end diciamo a livello logico è che il front end viene prima back end viene dopo nella lavorazione il front end cos'è vi rimetto la slide così lo rivedete è la parte in cui si crea dal avendo il design del circuito e avendo il silicio crudo vediamo sono anche altre foto speriamo è la fase in cui si imprime questo circuito all'interno del del buffer di silicio qui vediamo una una fab in cui questo processo viene fatto qui in giallo adesso si è un po rotto tutto qui al solo sistema mi farò vedere meglio le immagini comunque giusto no se puoi rimettere l'immagine un po interessante fa commentare qui sopra eh quella della fabbrica eh dicevo è interessante per è interessante vedere le persone tutte quante con quelle strane divise con le strani il motivo eh ora faccio uno spoiler io il motivo è che ovviamente sembra una cosa strana ma spiega un po perché una fabbrica costa alcuni billions fondamentalmente cioè in una fabbrica se voi ci pensate se state lavorando sull'ordine dei nanometri per dire un capello non è un capello è una è una cima da ancora è una cima da nave fondamentalmente c'è un oggetto che più grosso fisicamente parecchio più grosso del vostro oggetto quindi se vi casca un capello sul chip sul sul buffer che state incidendo avete fatto un disastro fondamentalmente è una cosa che rovina fondamentalmente il processo quindi questi sono ambienti appunto molto dove la polvere è un nemico feroce e quindi che ovviamente sono estremamente costosi perché lo hanno tenuti super puliti super filtrati super eh super contatti queste persone indossano questi camici bianchi non perché vogliono fare una cosa non perché hanno paura di essere contaminati non stanno in cina e non c'è il covid e perché il la polvere i capelli la pelle qualunque cosa rischia di essere un contaminante sì l'hai detto perfettamente cioè impurità che per noi sembrano banalità insomma negli ambienti in cui lavoriamo lì potrebbero compromettere insomma grosse quantità di di silicio di produzione anche di soldi sono diciamo un livello di discrupolosità che è molto maggiore delle delle stanze chirurgiche che si utilizzano in medicina e qui appunto è la fase più critica voglio dire di tutto di tutto quello questo discorso dei semi conduttori che faremo oggi diciamo il cuore pulsante è il front end come funziona allora dato dato il progetto dato il silicio crudo si usano un paio di tecniche per scavare il silicio diciamo che vengono usati dei specie di maschere chiamiamoli negativi fotografici degli agenti fotosensibili e vengono bene ossidato il silicio e vengono depositati dei materiali idroganti che materiali idroganti che servono a diciamo portare il silicio avere certe proprietà a farci che i flussi di carica scorrano in certe direzioni anziché in altre e mixando nel giusto ordine e nei giusti modi tutte queste tecniche si riesce a creare delle micro architetture che permettono a diciamo un pezzo di roccia una piastrella se vogliamo proprio chiamarle in maniera volgare di avere una logica dei flussi di carica che seguano esattamente quello che abbiamo in mente noi a me sembra proprio un processo magico quando lo racconto e a me sembra fare a me sembra tipo lasagne no faccio uno strato eh sì sì però devono essere fatti come le lasagne nello giusto ordine altrimenti ora io faccio battute io sto facendo una battuta il problema il problema è che concettualmente il processo è simile la cosa complicata è che lo appunto in un in un millimetro ci devi mettere un milione per un milione di questi elementi quindi diciamo la cosa veramente complicata è che devi riuscire ad avere una precisione dell'ordine appunto del dei 5 nanometri come stavo vedendo nella tabella che ci faccio vedere quindi di per sé concettualmente la cosa appunto non è complicata quindi sembra che uno dica scusa se è così semplice qual è il problema e il problema è farlo a 5 nanometri dove la precisione è un po complica eh dove ovviamente non ci puoi andare con il con il coso primo perché è troppo lento e quindi non c'è ci vuole troppo tempo e secondo perché ovviamente è proprio non hai la precisione con un movimento meccanico devi usare altri tipi di approcci sì esatto poi diciamo nelle nuove tecnologie per esempio 5 nanometri mentre pensiamo le prime tecnologie diciamo fino ai 130 nanometri si faceva tutto su uno strato piano tutto veniva fatto diciamo sul piano adesso si si sta cominciando a crescere delle strutture che cominciano ad essere anche verticali eh si comincia a usare il plasma perché quindi rispetto a agli strumenti che vi ho elencato quelli nuovi sono un po diversi è un mondo che è difficile lavorare delle dimensioni così piccole ed è difficile far sì che tutto funzioni perché non è che posso dire ok vabbè uno un transistor funziona un transistor lo faccio bene anche se faccio l'altro male non importa e purtroppo non funziona così e un altro fattore su cui si gioca poi è la dimensione del wafer che adesso io avevo detto 300 millimetri e che sarà mai direte voi nel senso anche se ne ho uno a 200 millimetri fa lo stesso ce ne staranno un po di meno teoricamente è corretto il fatto è che quando ho un wafer più grande riesco a lavorare più pezzi contemporaneamente e riesco a produrre di più e avere uno scarto anche leggermente minore e c'è da dire che una volta che io ho fatto una fab per una certa tecnologia che a livello di wafer o a livello di nanometri non è che sia facile fare un upgrade nel senso non è come una patch per per il per un nuovo software del pc o un rinnovamento di una fabbrica in molti casi bisogna ricostruire un'altra fabb mari di fianco che permetta di fare quella nuova tecnologia perché bisogna ripensare tutto e in questo in questo front end si si parla comunque di due tipi di aziende che sono idm e pure play di solito cosa sono gli idm sono delle aziende che si occupano di più fasi per esempio quella di design e anche della produzione le aziende che abbiamo noi in europa sono per lo più idm come vedremo scusa vuol dire vuol dire diciamo la sigla la sigla integrated device manufacturer ok uno che costruisce circuiti integrati però li costruisce facendosi dal partendo dal anche del progetto si occupa di tutta la catena mentre invece sono le cosiddette pure play foundry taiwan grosso e importante player tsmc e umc sono tsmc e umc che forse vi è capitato di sentire sono famosissime pure play foundry cosa vuol dire vuol dire che loro si occupano solo di produrre il silicio loro non fanno progetti loro aspettano che qualcuno gli mandi il progetto e loro gli rendono o inviano dove gli chiedono il buffer lavorato come facendo un piccolo passo indietro come gli idm si occupano appunto di front end design a livello di design cioè nel front end ci sono gli idm e pure play nel design come abbiamo già detto ci sono gli idm e le fabless cosa sono le fabless sono quelle che vanno d'accordo con i pure play scherzando e sono le aziende che non si occupano di produrre proprio silicio silicio di prodotti che vendono ma si occupano della fase di design e poi vanno si occupano si rivolgono ad altre aziende per la produzione ce ne sono di famosissime le più famose sono le le fabless amd invidia apple sono tutte aziende che che non hanno stabilimenti propri e si rivolgono spesso a tsmc ma non solo per la produzione di dei propri dispositivi e tsm si rappresenta lo stato dell'arte sia in termini di qualità cioè di prestazioni di bassini nanometri sia in termini di volume di produzione perché oltre a farne estremamente avanzati ne fa anche tanti riesce a venderne tanti e la situazione invece europea allora in europa noi non riusciamo a fare grossi non abbiamo grosse tecnologie in termini di nanometri nel senso che ci fermiamo assolutamente non riusciamo a competere con tsmc però siamo diciamo in gamba nei nell'applicazione di potenza quelle che vengono chiamate per esempio sic il carburo il silicio il gan nitrur di gallio queste sono tutte alternative al silicio nell'applicazione di potenza non hanno nessun vantaggio nei termini diciamo che diciamo prima della 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 grandezza del transistor hanno permettono di offrire non solo robustezza maggiore o prestazioni maggiori quelle applicazioni che sono di potenza in questo l'europa al alle sue fab e al suo il suo mercato ecco in questo in questo abbiamo la nostra parola riguardo e come ho detto appunto adesso faccio vedere qualche foto se vediamo se riuscito eccolo avevo salvato qualche foto queste sono i ricavi di tsmc per ogni tecnologia quindi vedete che forse ti conviene zoomare un pochettino perché si vede ecco forse adesso si vede ecco perfetto grazie sì questo aggiornato al inizio 2022 e fa vedere tutti i ricavi di tsmc in funzione della tecnologia che usa quindi ovviamente di anno in anno che passa le nuove tecnologie prendono una fetta di mercato e poi arrivano arrivano a un punto in cui cominciano a essere declassate a essere sempre meno importanti a prendere una fetta sempre più piccola poi sempre qui questo è come è diviso il mercato di questo front end appunto si vede tsmc come vi ho detto enorme vedete le marche che le aziende che riesce a insomma che si appoggiano tsmc apple intel intel comunque a delle delle pub però si vede che non riesce a soddisfare tutto il proprio bisogno con le proprie quindi si appoggia amd qualcomm ci sarebbe anche samsung samsung in realtà ha una tecnologia che è abbastanza competitiva però non riesce a garantire gli stessi gli stessi numeri di tsmc in termini di volumi e smic rappresenta la la foundry della cina come vedremo e poi c'è la global foundries che rappresenta la la fabbrica di semiconduttori delle degli stati uniti e poi altre minori questo più o meno questo è come questo segmento del front end dove diciamo i circuiti vengono creati i circuiti sul silicio vengono creati questo è come è spartito a livello mondiale vedete che comunque il taiwan ha uno strapotere samsung corea del nord un po' meno cina corea del sud corea del sud cina e stati uniti hanno hanno una fetta di mercato però sicuramente non a livello degli altri qui ho un'altra ho un'altra foto cosa pure play foundry revenue ecco qui si vede ecco questo è interessante questo è molto interessante qui si vede per ogni tecnologia chi ha i ricavi maggiori e quanti ne ha e come vediamo come come vi raccontavo questo grafico lo racconta molto meglio di me le tecnologie piccole sono sono di TSMC TSMC che le offre Samsung riesce come vi ho detto è forte ma non fa assolutamente gli stessi volumi andando salendo con i nanometri la situazione è più è più variegata ci sono più player che riescono a inserirsi nel mercato e addirittura qui poi insomma maggiore di 130 nanometri insomma TSMC è addirittura quasi una minoranza sembra ecco questo per quanto riguarda la parte di front end abbiamo detto adesso lo step successivo è la parte di back end la parte di back end cosa si tratta beh dal front end diciamo eravamo entrati con la fetta di silicio che io chiamo crudo quindi assolutamente non lavorato e siamo usciti con una fetta lo stessa fetta di silicio però divisa in in piccoli blocchetti che di fatto sono il cuore del chip sono il circuito che l'azienda aveva intenzione di produrre e questo è anche l'ingresso l'input della fase di back end la fase di back end prende questo wafer lo seziona lo taglia si sezionandolo lo divisa in piccoli blocchetti questi singoli blocchetti li impacchetta e li mette in quelle che noi abbiamo visto all'inizio sulla scheda verde sono i semiconduttori che conosciamo in questa fase ci sono anche altre ci sono altri procedimenti da fare ovviamente per esempio il fatto di creare i collegamenti tra il silicio e il package esterno che ha tutta la sua piedinatura in metallo qui appunto vediamo il wafer sezionato tutti questi poi andranno in scatolati singolarmente questo è un singolo dispositivo estratto da un wafer questo è quello che vi raccontavo come è divisa la parte di frontend e backend poi appunto questo è quello che vi dicevo il pezzettino di il componente il pezzettino di silicio che rappresenta il componente viene alloggiato sulla sulla sua base e i collegamenti vengono fatti alla piedinatura poi il tutto viene in scatolato ed è pronto per essere montato sul nostro circuito ecco questa è più o meno la panoramica ci sono altri player nel frattempo che ci sono varie fasi insomma parallele in cui magari mi sono addentrato meno per esempio quella delle materie prime degli agenti droganti eccetera che sono altrettanto importanti però insomma qui non voglio spendere anche troppo tempo anche perché sono meno interessanti a livello di aziende o di vantaggio che danno agli stati un settore un attimo più importante è quello dell'equipaggiamento equipaggiamento nel senso di macchinari che servono alle fab per produrre il silicio perché è ovvio che una fab di silicio avrà bisogno del proprio macchinario per fare la propria tecnologia ce ne sono un paio uno famoso asml asml anche europeo e è abbastanza chiave insomma per raggiungere bassi nanometri e anche non so forse qualcuno l'ha sentito ultimamente perché per la questione russia insomma ci sono stati dei disguidi nel senso che ha arrabbiatato le importazioni e insomma è apparso qualche volta nei giornali perché ovviamente senza attrezzatura di asml si può ancora meno raggiungere certi livelli tecnologici poi c'è un volevo far vedere velocemente vediamo c'è un file abbastanza interessante questo è un pdf l'unico pdf che vi mostro è un report di Ascentur che secondo me dà una buona dopo lo lasceremo insomma magari chiedo a Paolo se è così gentile lo mettiamo in sulla descrizione del video secondo me dà una buona infarinatura di tutto quello che vi racconto qui per esempio fa vedere tipici tipiche rotte che fa il le parti che fa i semicoduttori e tutte le sue parti e che è un po' quello che vi ho raccontato più dettagliato passando per le varie parti e racconta di dove è fatto cosa è fatto dove qui racconta per esempio i ricavi e gli investimenti lungo la catena per esempio vedete nelle foundries c'è bisogno di un enorme investimento iniziale come vi ho detto è difficile entrare non è che non è facile per qualcuno domani arrivare a fare i 5 nanometri e pian piano fa vedere insomma tutte tutte le varie quanto i vari continenti le varie macro aree contano nella catena eccetera eccetera molto interessante però insomma non vorrei soffermarmi troppo su questo comunque lo lasciamo in descrizione ecco sì giusto per chiarire ovviamente qui ci sono due problemi a fare una found come sempre a fare queste operazioni tecnologiche ci sono sempre due problemi una è l'enorme quantità di soldi che ci vuole che però quelli tutto sommato uno può dire vabbè mi metto insieme due tre stati si mettono lì e fanno la foundry il problema vero sono le persone perché la fabbrica ovviamente richiede persone con competenze specifiche e quel tipo di competenze ovviamente non è che è un po' la battuta che io faccio ogni tanto è come se voi mettete l'annuncio sul giornale che vi serve qualcuno che abbia esperienza di viaggi sulla luna non importa quanti soldi offrite di quel tipo di persone ce ne sono poche fondamentalmente in giro e analogamente di gente che vi sa montare su una foundry e ve la sa gestire non è che ce ne sono tanti deve essere qualcuno che l'ha già fatto e probabilmente non è che l'ha già fatto e probabilmente lo sta facendo in quel momento quindi quel tipo di persone sono poi il famoso capitale umano che poi è complicato da avere e che rende poi complesse questo tipo di operazioni sì esatto sono competenze che sono molto settoriali molto anche difficili da raggiungere perché insomma se volessi specializzarmi in tecnologie super innovative dovrei andare per forza in Daiwa però non è facile arrivare in contatto con veramente la manifattura i segreti che servono per arrivare a allestire una fab a parte tutti i costi proprio a livello di competenze non è facile colmarle infatti come vedremo SMIC la fab cinese nasce da una persona il suo fondatore che aveva avuto esperienze sia in America per la Texas Instruments una roba tipo vent'anni di esperienza quindi non proprio uno staggista ecco ma neanche ma anche in in Taiwan aveva avuto una parte di esperienza quindi si capisce che per dar vita a una foundry o comunque alla parte tecnica servono certe competenze che non sono facili a raggiungere ecco ci puoi secondo me tanto stiamo avvivendo verso la conclusione penso che possiamo fare una bella panoramica su qual è la situazione adesso a livello diciamo mondiale delle varie nei vari continenti della produzione che l'abbiamo accendata abbiamo fatto qualche accenno ma magari facciamo una panoramica più precisa così possiamo un po' raccontare come sta messo il mondo sì ecco adesso beh partirei da da qua vicino partirei dall'Italia qui allora un po' di cose probabilmente le avrete già capite in cosa siamo forti in cosa siamo un po' meno forti comunque l'Italia in particolare ha una importante gitta di semiconduttori che è la ST Microelectronics e si occupa di di vari vari campi di semiconduttori nel senso che fa sia microcontrollori famosi STM32 qualcuno magari ha avuto a che fare non so tu Paolo magari ti è capitato mai di smanettare no però io STM la conosco decisamente bene perché andai a sentire il famoso alcuni discorsi di Pasquale Pistorio quando molti anni fa quindi diciamo conosco l'azienda abbastanza bene poi diverse persone che ci avevano lavorato che ci lavoravano quindi è una realtà molto interessante fra l'altro se per chi non lo sa la sede principale sta a Catania fondamentalmente per regioni storiche quindi è una cosa molto particolare e molto interessante e poi un'altra cosa super particolare è che è uno dei pochi esempi in cui italiani e francesi vanno d'amore d'accordo Pasquale Pistorio Pasquale Pistorio è riuscito a convincere i francesi a farli mettere la sede principale poi adesso la sede crede che sia in Hollande in UK cioè hanno un po' di cose societarie ma all'epoca la sede principale era a Catania e riuscire a convincere i francesi a mettere la sede principale a Catania e deve essere statui e dice molto delle capacità del personaggio sì appunto comunque l'ST è italo-francese e un bel esempio devo dire di collaborazione europea va bene è ben avviata e si occupa di microcontrollori e ha anche un buon buon reparto automotive e se ha una storia interessante adesso non la racconterò in questo video comunque è stata fondata da mi pare che sia Dien del suo fondatore un siciliano quindi è una storia particolare poi aveva avuto insomma dei trascorsi in Silicon Valley vediamo qui sì esatto dovresti vedere il il grafico questa è sempre una panoramica per per quanto riguarda tutto il mondo qui si capisce appunto chi si può permettere cosa quindi Taiwan si può permettere qualsiasi tecnologia South Korea anche Giappone un po' ma non tutte quelle più performanti Cina uguale US uguale Europa invece più nanometri crescono più è forte però è anche diciamo in accordo con quello che vi dicevo che l'Europa è più specializzata nell'elettronica potenza mentre nell'elettronica bassi nanometri è un po' indietro e poi vediamo qui questo qui è sempre per una panoramica globale come i vari i vari stati sono forti in nelle varie parti del processo da notare che nessuno è forte in tutta la catena non c'è nessuno che riesca ad essere veramente importante in tutto gli Stati Uniti per esempio hanno un grosso deficit nella parte di produzione si hanno qualcosina però non sono assolutamente senza Taiwan non stanno in piedi siamo siamo chiari e per quanto riguarda invece per esempio Taiwan non ha assolutamente o quasi niente a livello di design e l'Europa se la cavicchia però che è questa in in qua è tutto è tutto blu quindi faccio anche fatica a dirvi in azzurrino questa qui in azzurrino però per esempio qui fabless chip design only è bassa però vabbè agli EDM comunque si capisce che non riesce a a a imporsi in nessuno di questi punti anche assembly testing and services è assolutamente assente questa sempre questi erano due grafici insomma globali tornando alle situazioni particolari per esempio l'Europa l'Europa ha varie varie aziende in realtà varie ne ha tre principalmente aziende che sono EDM quindi ricordiamo aziende che coprono gran parte della catena di produzione del semiconduttore dal design alla manifattura che sono Infineon tedesca NXP che se non sbaglio è belga o stati limitrofi e la ST che è italo-francese come vi ho raccontato sono forti sono un po' più forti negli applicazioni di potenza e però la sfida dell'Europa adesso è il fatto che ne abbiamo forti insomma aziende automotive spesso sono una parte grossa del fatturato di queste aziende però l'automotive si sta spostando si sta spostando nel senso che i chip che vengono prodotti dalle nostre case europee cominciano a non bastare più perché per un sistema di guida autonoma performante io ho bisogno di chip che abbiano buone potenze di calcolo buone potenze di calcolo che non sono garantite da processi ad alti nanometri quindi cosa succede succede che il sistema che finora abbastato comincia a scricchiolare cosa sta facendo l'Europa l'Europa ha fatto il cosiddetto anzi facciamo un passo indietro in che situazioni si è trovata l'Europa l'Europa si è trovata a dover fare una scelta perché perché ha detto diciamo dalla pandemia pandemia come ci ricordiamo bene ha fatto è stato un po' uno spartiacque ci siamo accorti che i semiconduttori non erano una cosa diciamo che potevamo dare sempre per scontata prima li abbiamo trattati un po' come dire come una commodity un bene che che sia uno che sia l'altro sai che ti arriva ci siamo accorti per una serie di motivi che non mi racconto insomma che la catena di forniture si era intasata e insomma c'era i prodotti elettronici che non arrivavano per esempio la playstation 5 per dirne una ma la playstation 5 almeno automobili non venivano consegnate non saranno tempi di attesa lunghissimi l'europa lì ha dovuto fare una scelta investire nei semiconduttori o non investire nella produzione dei semiconduttori nelle fab perché perché da una parte investendo si poteva correre il rischio di diciamo investire dei soldi che poi non permettevano di colmare il gap tecnologico quindi buttandoli e magari il sistema di forniture eccetera veniva ripristinato perché magari si poteva pensare che ok vabbè adesso c'è la pandemia c'è la catena di forniture si è intasata però poi quando insomma la pandemia passa si sistema tutto noi possiamo tornare a prenderci i nostri semiconduttori da Taiwan e continuiamo con la solita maniera anche perché come abbiamo visto Cina ha investito molto nei semiconduttori adesso non è che ha avuto risultati nulli ma non ne ha avuti quanto ne sperava perché come abbiamo detto per costruire delle fab ci sono bisogno di enormi investimenti e competenze è molto difficile arrivare è molto difficile colmare quel gap tecnologico quindi l'Europa ha detto ma investo cercando di rimanere alla pari o diciamo me ne frego e confido nel fatto che dopo la pandemia tutto si sistemi l'Europa ha deciso di investire e vedremo vedremo se sarà insomma la scelta giusta io penso che io penso che sia la scelta giusta personalmente e cosa ha fatto ha fatto il cosiddetto chips act che è uno stanziamento di variati miliardi non mi ricordo quale ma con l'obiettivo di passare dalla produzione attuale attuale diciamo 2021 del 10% di produzione mondiale degli semiconduttori in Europa al 20% nel 2030 quindi questa è stata la grande mossa dell'Europa ci staremo a vedere in maniera simile gli Stati Uniti hanno fatto un altro investimento sui semiconduttori Stati Uniti che sono in una situazione un po' migliore ma insomma scricchiolante anche il lato loro perché comunque si affidano molto a TSMC loro hanno si Intel Intel che ha una parte insomma di produzione però non riesce a diciamo careggiare con TSMC adesso TSMC attualmente fa i 5 nanometri adesso tu Paolo ti ricordi l'ultimo l'M2 per esempio della Apple mi pare che sia 5 nanometri lei mi coglie in preparato professore mi giustifico lei mi coglie perché vedevo volevo vedere se che magari non ti possi distratto dai sto guardando io Apple M2 che quasi sicuro è il processore che che scende di più di tecnologia Apple M2 nanometri va bene comunque per dire che data adesso non mi ricordo se sia 5 o 7 comunque mentre Apple è arrivata grazie a TSMC a questa tecnologia Intel è appena riuscito ad arrivare a 10 nanometri in realtà sì sì è un 10 nanometri che però lei dice che sia un 10 nanometri però di fatto prestazionalmente è un livello di quello che i competitor TSMC SMIC fanno con 7 nanometri però si capisce che ci sono qualche anno di ritardo quindi Intel per quanto può produzione dimmi l'Apple dice che loro lo producono a 3 nanometri entro la fine dell'anno no ma questo deve essere l'M2 Pro l'M2 Pro arriva a 3 nanometri ok l'M2 attuale non è a 3 nanometri sarà a 5 sarà a 5 se fanno il 3 vuol dire che è a 5 ecco quindi 5 nanometri esatto TSMC è a 5 attualmente Intel a 10 che vabbè dice che prestazionalmente è come un 7 anche se è un 10 perché ovviamente non è solo come dicevo non è proprio solo un fattore di nanometri per farvi capire che c'è un gap di qualche anno oltre al fatto di anni c'è un fatto di sviluppo c'è anche un fatto di volume di produzione che quelli TSMC sono più più elevati poi ha tutta questa moltitudine di aziende fabless che abbiamo già menzionato sono AMD Nvidia Apple che queste diciamo sono vitelli dai piedi di balsa vorrei dire nel senso che sono tutte che si affidano a TSMC quindi si capisce bene perché gli Stati Uniti sono così interessati a Taiwan perché senza questa isola non potrebbero produrre la gran parte dei dispositivi che hanno tutta la tecnologia che hanno non potrebbe più essere prodotta si capisce perfettamente le ragioni politiche di questo interessamento a Taiwan che poi sia anche giusto dal punto di vista politico non voglio discuterne però sia giusto o meno eticamente però l'interesse economico è ovvio la situazione poi dei altre situazioni importanti di cui parlare sono quelle appunto brevemente di Taiwan Taiwan come vi ho detto ha TSMC ha UMC che sono due grosse fab c'è poco da dire è leader in quello che è la produzione bassi nanometri grandi volumi ed è ed è ambito dalla Cina e dagli Stati Uniti Cina Cina che ha fatto grossi investimenti alla SMIC che non riesce che si sta insomma è avviata è ben avviata ha delle insomma riesce a raggiungere mi pare addirittura 7 nanometri si è riuscita a filo dal poco e saltando però i 14 quindi facendo o i 10 avevo saltato o forse era arrivata a 10 so che SMIC aveva riuscita a fare un balzo tecnologico molto ampio 7 nanometri la mia notizia è da 7 nanometri ecco si aveva fatto un balzo tecnologico che non era non era era abbastanza impensabile insomma perché fare un salto di una tecnologia è una roba che nessuno ha mai fatto cioè fare passare da 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 uno senza aver fatto quello prima però per il primo adesso era considerato impensabile però sta di fatto che non riesce a eguagliare Taiwan né come tecnologia perché è comunque qualche anno indietro né come volume di produzione e poi avrete sentito di nominare in Cina megastabilimenti Foxconn per esempio per Apple ecco questi velinomini in realtà sono sono importanti per l'elettronica nel senso che sono centri di assemblaggio ma non hanno a che fare proprio verticalmente con i semiconduttori sono centri in cui gli smartphone o qualsiasi altro prodotto viene assemblato quindi centri diciamo più che altro di mano d'opera e poi visto insomma la situazione attuale vi racconto un po' della Russia Russia che aveva avuto periodo in cui diciamo sembrava riprendersi dal gap che c'era con il resto del mondo però attualmente poi si è fermata insomma attualmente produce sui 130-90 nanometri 130 nanometri riesce a produrre in grande quantità 90 nanometri per alcuni casi particolari e 65 nanometri è per è in fase di sviluppo la sua azienda la Micron la Micron però con la K perché la Micron con la C non è assolutamente russa non mi ricordo sia europea o americana è appunto la leader ma non c'è storia infatti sappiamo che la Russia è dipendente assolutamente dall'estero per tutta la tecnologia semiconduttore e si vedrà insomma non so come farà non so se riuscirà a diciamo a bypassare le sanzioni però sta di fatto che per come adesso è come se fosse 15-20 anni indietro a livello di capacità di calcolo capacità informatica poi c'è tutta una parte del sud-est asiatico insomma che è una zona in fermento per esempio non lo so Corea del Sud in realtà sono molto specializzati ma non hanno grossi volumi diciamo sono abbastanza sono forti però hanno una fetta minoritaria e Malaysia è importante nella produzione nel lato front-end che abbiamo raccontato prima qui il Vapre viene diviso viene impacchettato nei singoli device nel back-end scusami sì nel back-end grazie grazie mille l'India ho sentito che sta diventando un player importante sta sostituendo questa per una è più un giro d'affari legato ai semiconduttori non proprio di semiconduttori sta un po' sostituendo la parte di manifattura manifattura manodopera per esempio tutta la produzione Apple tutta una parte si sta spostando in India comunque anche insomma Vietnam e altri stati vicini cominciano ad essere importanti per il costo della manodopera che è assolutamente competitiva ecco quindi stati che magari ora non sono importantissimi ma lo saranno sono è una zona geografica in fermento per quanto riguarda dei semiconduttori ecco penso penso che possa se ti penso che ti sia stata un po' più chiara sulla situazione internazionale magari sapevi già tutto no in realtà no perché capisci io sono un software per me tutto quello che sta sotto è ferro sono pezzi di metallo non mi si a parte battute no grazie perché la panoramica è stata molto interessante sia per la parte tecnica di produzione sia anche per la parte diciamo economico politica di vari player del mondo e niente quindi io ringrazio Giulio per questa prima puntata di semiconduttori nel mondo e vi invito ovviamente a iscrivervi a Liberi Oltre sottoscrivervi al canale STEM se non l'avete già fatto ridiffondere ulteriormente e scriveteci nei commenti se ci sono altri argomenti di cui magari sempre nel mondo semiconduttori mi interesserebbe fare qualche approfondimento ne parliamo insieme a Giulio e cerchiamo di farlo grazie a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie mille